buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video dei bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione ciao ragazzi bentornati oggi andiamo a fare un altro colpo esageratissimo ovvero se riusciamo ci portiamo a casa 8 chili di pasta barilla con 20 centesimi solamente 20 centesimi più in là vi faccio un bel riepilogo per vedere quanto abbiamo risparmiato ora ci fiondiamo perché abbiamo precisamente un'oretta per fare tutto che poi si torna al lavoro corriamo ciao allora ragazzi fate che vi ho perso allora ragazzi la missione è riuscita perfettamente ora andiamo a casa e con due foto vi spiego praticamente abbiamo preso 16 chili di pasta barilla abbiamo fatto due scontrini con 8 chili l'uno il totale era 5 euro e 20 vi allego la foto abbiamo utilizzato per pagare due gift card da 5 euro per scontrino in modo che così abbiamo pagato 20 centesimi uno e 20 centesimi l'altro e facendo così ci siamo portati appunto come vi dicevo 16 chili di pasta barilla già in offerta quindi non andiamo incontro a nessuna restrizione pagando con gift a 40 centesimi la cosa è bella che l'altro giorno abbiamo fatto la scorta di sugo oggi la scorta di pasta quindi a voglia in più la cosa bella che a 65 centesimi il chilo erano disponibili 3-4 tipi di pasta quindi non uno che ce l'hai lì e ti rimane per una vita quindi possiamo tranquillamente spaziare nei gusti eccolo qua la cosa importante ci tenevo a precisare le gift card le abbiamo ottenute appunto di taglio piccolo abbiamo scelto apposta questo taglio piccolo perché ci permetteva di sfruttare meglio negli scontrini le abbiamo ottenute tramite dei siti di sondaggi trovate vari portali web tra cui sconto maggio anche una bella anche tantissimi belli articoli sui maggiori portali che vedete che sto facendo una manovra eccolo qua ecco trovate tantissimi siti e panel di sondaggi che vi permettono questo io non voglio spiegarvi i sondaggi ora perché mi sa che se no mi caricano sull'ambulanza l'unica cosa seguite sconto maggio trovate appunto le sezioni lui ha trattato molto meglio questi argomenti e andiamo a cedere qualche di cesare ok via leggo la foto della spesa vi faccio qualcosa di grafico vi mando un saluto un cashback del banco matti ci vediamo lunedì per il prossimo video ciao belli